Orco! 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 Beh, comunque il college è tutto da scoprire. Nurse! Ti giudicano in modo tutto diverso dalle medie. Nurse! Orco! 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 Ma dove sono? Mi sa che stanno parlando di noi. Ah, figurati. Nurse! 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 Forza, andiamo, Lewis. Nurse! 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 L'amerezza! 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 E' famigliato! Ok, è ora di cominciare È il momento del tuffo dalle scale Gilbert, la nostra nuova casa Incredibile, ce l'abbiamo fatta Piano Se non vuoi il letto vicino alla finestra, io te lo... È tuo Grazie Prego Ma lo sai che questa stanza è bella? Sì, dà grandi possibilità Che dici, ci permetteranno di mettere un piccolo frigorifero per bibite, eccetera, eccetera? Stai scherzando, Gilbert Possiamo anche metterci il forno a microonde, accanto E resta un bello spazio per i mass media Grande E questo è solo il principio Noi avremo la camera più bella del campus Non sarà la più bella, ma certamente la più incasinata Calma, Gilbert L'ordine è garantito Questo robot sarà meglio di una colpa E ci aiuterà con le donne Cosa? Sì Metti che uno di noi sia qui con una donna Questo sarà il nostro dispositivo per avvisare l'altro di non rompere le palle Un momento È permesso portare ragazze qui nelle camere? Non ragazze, caro Donne Perché adesso noi siamo uomini Non è male il college Sarà una grande annata Ehi 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 Ehi